adesso con un'altra sostituzione anziché mettere il sol settimo, sol maggiore possiamo fare anche l'accordo che deriva dalla loro a bemolle si re fa la bemolle guardate se noi stiamo in re minore sol anziché questo sol possiamo fare un arpeggio sulle note sulle note stando in do maggiore di si re fa la bemolle e poi chiudi in do maggiore cioè secondo grado re minore quinto grado normale e primo grado settima maggiore invece in questo caso fatto ho messo un altro tipo di un'altra soluzione quindi guardate prima all'inizio era così do re sol questo sol l'abbiamo modificato con la quinta più poi abbiamo fatto l'accordo sospeso se il mondo assomiglia a te poi abbiamo fatto il nona bemolle e adesso abbiamo fatto questo accordo qui ok adesso vediamo invece un altro esempio e oggi ci fermiamo su questi primi ascoltate che bello faccio sempre quell'esempio ascoltate vado 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 nella do nella dominante sto in sol anziché fare anziché sentite che faccio che bello la 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 l'accordo l'accordo è la fine del mondo ascoltate senza vedere sentite la differenza quella è una dominante è una dominante ascoltate rifaccio la stessa cosa senza quell'accordo che è una dominante la 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 il oppure sentite la Quell'accordo è un accordo di nona bemolle, la nona bemolle...